ciao a tutti amici di esperienze on bari siamo in compagnia di amazon file hd 7 per l'unboxing apriamolo subito allora scatola fatta veramente molto bene eccolo qua è il primo diciamo kindle file che provo quindi vorrò per qualche giorno per capire un po bene qual è la filosofia di questi prodotti eccolo qua mettiamo un attimo da parte poi abbiamo manualistica qua dentro cosa troviamo di bello troviamo l'alimentatore con ingresso usb in questo caso presa non italiana direi e basta quindi dovete già avere un cavetto usb micro usb a meno che vediamo se per caso è ok scusatemi è qua sotto cavetto usb micro usb a posto quindi non ci sono le cuffie però insomma contando che il prezzo si attesa sui 140 euro ci può stare mettiamo via il tutto e non vedere il tablet ok lo accendiamo tasto è qua in alto sulla destra vi avviso che anche questo lo sto già provando da un giorno circa niente di che infatti proverò ancora una settimana circa però posso dirvi già che è abbastanza intrigante è un tablet diverso dal solito comunque basato su android in linea di massima allora vediamo un po come è fatto frontalmente abbiamo videocamera anteriore lato sinistro bilanciere del volume parte bassa pulito lato sinistro e destro pulito in alto abbiamo ingresso micro usb accensione sperimento blocco svelocco metta fuoco ingresso per le cuffie e microfono qua dietro abbiamo una fotocamerina che dovrebbe essere da 5 megapixel adesso non ho trovato caratteristiche approfondite ma ve lo dirò nella recensione e allora vediamo un po dimensioni abbiamo 19 centimetri 12.8 centimetri per uno spessore di circa un centimetro e uno quindi abbastanza spesso 340 grammi parliamo di display 7 pollici hd 1280 per 800 pixel 216 pixel per pollice ips abbastanza buono angolo di visione il processo è un quad cord 1.5 giga che fa girare tutto abbastanza bene adesso qua non ho il wifi comunque un giga di ram 8 o 6 gigabari di memoria interna il prezzo si agia sui 100 appunto 40 euro per 8 giga e sui 170 per il 16 giga io ho l'otto in prova quindi niente diciamo che adesso lo proverò è giusto per farvelo vedere se avete domande particolari fatemi pure nei nei commenti come sempre ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per esperienza nobile ciao ciao